Solo grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Codroipo con il supporto della squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento, tutto è finito bene e i condomini della palazzina di via Isonzo ne sono usciti senza conseguenze sia per la loro salute che per i loro appartamenti. Verso le 8 del mattino del fumo usciva dal vano ascensore. Gli abitanti dello stabile e una quindicina di persone circa, accortisi della situazione di pericolo, sono usciti immediatamente. Al loro arrivo i soccorritori si sono accertati che tutti gli alloggi fossero vuoti. Hanno trovato ancora delle persone anziane nelle loro case che sono state poi accompagnate in zona sicura all'esterno. Raggiunta la cabina dell'ascensore che si trovava al terzo piano, i vigili del fuoco hanno constatato che l'incendio al motore elettrico si era già autoestinto ma tutto il vano ascensore, il vano scale del quarto piano erano invasi da un denso fumo nero. Hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza gli impianti, verificare con la termocamera in dotazione che non vi fossero ancora dei focolai nascosti e utilizzando gli elettroventilatori hanno evacuato i fumi. Una volta verificata anche l'assenza di residui dei gas prodotti dalla combustione, tutti i condomini hanno potuto rientrare nei propri alloggi tirando un sospiro di sollievo.